Allora, caro Luca, è arrivato il momento forse più difficile della tua carriera di vocal coach, perché questi sono a prova di bomba veramente, sono i Chistona, il gruppo famoso per essere forse più stonato d'Europa, che si divertono a reinterpretare le canzoni. Beh, sai, ultimamente hanno detto che non esiste la parola stonato e si sta lavorando sul fatto che esiste non allenato all'intonazione. Oh, vedi? Quanto non sono allenati! No, 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 ma se vai nel dizionario, la voce stonato, c'è la foto loro. Comunque noi lo diciamo da sempre, che non esiste stonato, esistono al massimo i Chistona. Allora, adesso voi avete ripreso una canzone, una canzone di Marco Cagliari. Io sto tremando perché non sapevo che era così alto. Esatto, tu pensavi che fosse più piccolo, dunque il posto di qualsiasi cosa. Sì, dico Luca Jurmanino, non potete mandare Jurmanino, dico vabbè, comunque. Allora abbiamo preso il vero testo. Jurman, man uomo, in tedesco vuol dire uomo che picchia quelli che lo prendono per i fondelli. Dunque vedi un po' tu se è il caso. Allora io scappo prima che finisca il posto. Allora, la canzone è dentro ogni... È dentro ogni brivido di Marco Carta, però noi abbiamo preso il vero testo. Sì, era un altro. Che era, è che non c'ho il fisico, sottotitolo Ode a Sanremo Jurman. Ah, ah, ok, va bene. Allora, sentiamo. Le prendi il coraggio di mani, ma le raccoglie le mani. E poi le due mani te le dà lui dopo, in faccia. Facciamo finta che non c'è nessuno, ne sai. Sì, ok, facciamo finta. Gira a vuoto. Già è partita stonata la chitarra, figura tu. Ho preso un bel po' di morfina, mi tolgo un rene per te. L'ho messo giù in cantina, so appena grammi sei. Ero un ragazzo da fare, e nei tuoi occhi così blu. Ho visto spesso il terrore, e tu m'hai fatto un gran cuore. Vorrei tanto ballare, ma già non so cantare. Darti i capelli da pettinare. Renderti ogni minimo diritto d'autore per te. È che non c'ho il fisico, ed ero pure timido. Incontro Luca Jurman, ma che culo. Semplicemente amo Maria, vorrei fosse mi zia, come vorrei. Ancora. No, basta qui. È che non c'ho il fisico, ed ero pure timido. Incontro Luca Jurman, ma che culo. Semplicemente amo Maria, come vorrei che fosse mi zia, come vorrei. Allora, no, no, ferma, rimani, rimani. Perché se ti voleva minare ti viene una cosa. Allora, stranamente oggi era più stonata la chitarra che te. Mi aspettavo, mi aspettavo... Peggio? Sì, molto peggio. Peggio di così è dura. Molto peggio. No, veramente, potete fare sicuramente qualche concorso... Ippico, ipico. Di istituto particolare. Sì, di educazione mentale direi. Bravi, bravi, bravi. Ci vediamo fuori. Detto da Luca, bravo. Prendo e porta a casa. Allora, Luca, dov'è? Questa è la prima volta che i chistona non prendono insulti. Una canzone di carta li possono solo migliorare, grazie. Vedi, è come lo male che, insomma... C'è chi... Hai passato l'esame. No, ero veramente... Si vede che la tensione ti ha fatto concentrare. Io non so se sto blu o rosso, cioè come squadra. Secondo me sbaglia a prendere aria, perché sulle appunti, vero? Non la stava neanche prendendo, certo. Era in apnea. Il famoso canto è in apnea. È l'unico che canta in apnea. Ma da dove state?